Iniziare è semplice, ti alleni in palestra, prendi a cazzotti il sacco, credi che sia tutta una questione di velocità e muscoli, essere pugile non significa soltanto colpire ma prima di tutto imparare a ricevere i colpi, a incassare, a fare in modo che quei colpi facciano meno male possibile, nessuno ci insegna a perdere, non abbiamo idea di come si perda, tutti però da sempre ci raccontano quanto è bello vincere, sentili come urlano, uno che stramazza al suolo, umiliato e l'altro accanto in piedi col braccio alzato che si prende tutti gli applausi, lo spogliatoio ti protegge, quell'odore di umido ti sarà sempre fedele anche nelle serate peggiori, il tuo soprannome ti redime dal tuo passato, è il momento di salire sul ring, è il momento di mettersi in gioco, inutile avere paura, se non ti prenderà a pugni il tuo avversario ci penserà la vita, l'unica cosa che puoi fare è ricordarti di anticipare entrambi.